Sono scesi in piazza con i loro bauli e con il grido di dolore da far giungere al governo perché tutti gli sforzi fatti finora per queste categorie di imprese e lavoratori non sono stati sufficienti. L'Ampon Simone illumina la città, la manifestazione che si svolta ieri sera in piazza Garibaldi a Sulmona, organizzata dai Flight Case, gli ormai noti bauli utilizzati per il trasporto di attrezzature tecniche, vuoti e privati della loro funzione, così come tutto il settore di cui si fanno simbolo diventando protagonisti di un momento di riflessione condivisa. Il comparto dello spettacolo dal vivo animato da numerosi professionisti e aziende sta vivendo un momento di forte difficoltà a causa della sospensione delle attività e della chiusura dei luoghi di cultura. La situazione si è molto grave, sono ormai 14 mesi che non riusciamo a lavorare e soprattutto non si riesce a riprogrammare una ripartenza certa. Sapete benissimo che nello spettacolo quando si decide di ripartire c'è bisogno di un tempo di programmazione perché gli eventi, perché gli eventi non è come il ristorante che apri e la sera puoi andare a cena. Qua i concerti vanno programmati, quindi a noi serve una data sicura in cui si può cominciare a riprogrammare le attività, quindi noi non ce la facciamo più, sono 14 mesi che non riusciamo a lavorare, non riusciamo più a organizzare la nostra vita, non sappiamo come fare. La situazione attualmente qual è in Abruzzo? In Abruzzo, che sappia io, al momento ancora non si programma nessun tipo di manifestazione, si comincia a parlare qualcosa, forse qualche manifestazione che tenta timidamente di approcciare un programma verso luglio, agosto, ma nell'immediato niente. Parlo delle manifestazioni, quelle più importanti e quelle soprattutto sono, diciamo, che hanno come loro organizzatori gli enti statali, quindi comuni, le province, la regione, ma gli eventi privati assolutamente non se ne parla proprio in nessuna maniera, quindi questo per noi significa che quest'anno quasi forse salterà più o meno, come devo dire, in una maniera come se non lavorassimo. L'anno scorso abbiamo avuto mediamente delle perdite che oscillavano dal 60 al 90% e quest'anno ci attendiamo più o meno alla stessa situazione per gli operatori dello spettacolo. Non ce la fate più in sostanza? Assolutamente no, sono 14 mesi, considerate che ognuno di noi, oltre che avere famiglia, chiaramente ha bisogno di campare, abbiamo magazzini, affitti, luce, tasse, sono tutte cose che partono, solo i leasing e i mutui sono in questo momento sotto moratoria, abbiamo bisogno che si riparta, che ci diano una data certa di ripartenza e che non si torni più indietro, cioè ripartiamo lentamente, ripartiamo con le misure di sicurezza perché non se ne può fare a meno, siamo d'accordissimo su questo, non siamo contrari, però diciamo ripartiamo, dareci una data di ripartenza e che non ci si fermi più, se no questo nostro lavoro scomparirà. A illuminare il momento come emblema di speranza è tornata ad accendersi l'arte della luce sulla rotonda di San Francesco.